Agrigento è il primo bambino figlio di una coppia dello stesso sesso. Una delle due donne aveva partorito proprio all'ospedale San Giovanni di Dio, presidio ospedaliero della città dei Templi. Una nuova vita data da una coppia omogenitoriale, quindi attraverso la tecnica della procreazione medicalmente assistita. Il sindaco Lillo Firetto ha registrato all'anagrafe il bambino nato da questa coppia. Dopo le firme, la coppia omogenitoriale agrigentina ha ringraziato sindaco e impiegati comunali presenti, offrendo confetti ed esprimendo la loro gioia per l'impegno espresso dall'ente. L'atto, si legge in una nota stampa dinamata da Palazzo dei Giganti, è stato firmato personalmente dal sindaco a seguito di un indirizzo politico espresso da tutta la giunta comunale che ha condiviso le valutazioni poste alla base di questa scelta. La registrazione avvenuta al primo piano del palazzo di Piazza Gallo, sede del servizio anagrafe, è stato civile dopo che il responsabile aveva però manifestato la volontà di non dar seguito alla richiesta degli uffici. E dunque gli uffici si erano rifiutati di registrare l'atto pubblico. Al di là delle sensibilità di ciascuno, ha commentato Lillo Firetto, è un dato di fatto che un bambino che nasce acquisisce i propri diritti. È un bambino atteso con amore e accolto con amore ora anche da tutta la città. Agrigento continua Firetto si adegua all'orientamento già seguito da alcuni anni da altre città italiane in cui i diritti della persona sono difesi con fermezza e quando necessario anche con atti di coraggio. Ma quella che sembrava essere una storia a lieto fine per le due donne e genitori del piccolo, ha invece nuovi risvolti. A non condividere quanto accaduto, la registrazione del figlio dei due donne all'anagrafe, è il comitato Difendiamo i nostri figli della Sicilia, che si è scagliato contro il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, esprimendo con una nota del notevole disappunto. Il comitato, secondo quanto si legge nella nota stampa, accusa Firetto di prepotenza ad aver tradito non soltanto la legge ma anche la verità. Il sindaco, scrivono ancora dal comitato, con un atto di prepotenza, scavalcando la competenza e soprattutto il legittimo operato dell'ufficio di Stato civile, ha trascritto illegittimamente all'anagrafe comunale l'atto di nascita di un bambino, concepito da una donna con la tecnica della fecondazione etereologa. Così, proseguono nella nota, la madre naturale del bambino e la di lei compagna hanno ottenuto di figurare nei registri anagrafici come genitori legittimi madre madre del bambino. Il comitato sostiene che un bambino non può essere figlio di due madri ed essere privo di padre e da chiare lettere ha chiesto al sindaco, con l'ufficiale territoriale di governo, di rispettare la legge e di non violarla. Ma c'è di più perché il comitato Difendiamo i nostri figli della Sicilia ha auspicato, seguendo il coraggioso e legittimo esempio della procura di Roma su un caso analogo, un intervento della procura competente per territorio per la violazione dell'ordine pubblico interno che la trascrizione dell'atto illegittimo ha comportato. Grazie. 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 Grazie.